Amici del vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Martedì 5 novembre, data fatidica, si sta votando in queste ore negli Stati Uniti. Inizieremo sicuramente da questo tema. Il martedì, come sapete, è dedicato all'approfondimento dei principali temi economici e politici dell'Italia e dell'Unione Europea, ma non possiamo in questo caso partire con alcune considerazioni sulle elezioni, su quello che sarà l'esito del voto in America, quando verrà proclamato, ovviamente, quali saranno gli effetti in particolare per l'Italia. Presento subito i miei ospiti, benvenuto, dal benvenuto a Gilberto Trombetta, giornalista economico. Ciao Gilberto. Ben trovato Carlo e ben trovati ai nostri spettatori, ovviamente. E benvenuto, ben ritrovato Matteo Brandi della Segretaria Nazionale di Pro Italia. Buonasera Carlo a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Allora, si sta votando in America, Gilberto, questi sono giorni importantissimi, una giornata importantissima, questa. Che riflessioni ti vengono da questi ultimi giorni della campagna elettorale? Cosa è un po' il discorso complessivo di questa campagna elettorale, quindi di queste ultime settimane negli Stati Uniti? Che riflessioni ti vengono? Che mi suscita sempre curiosità e un profondo dispiacere l'interesse che in Italia si dimostra per questa elezione, un ulteriore conferma, se mai ce ne fosse bisogno, che un po' tutti, popolazione, comunicazione, mass media, classe dirigente, hanno interiorizzato il nostro status di colonia e dal punto di vista di un colonizzato ti dico che a noi in realtà chiunque dei due vinca sostanzialmente non ci cambierà un granché e poi magari più avanti nel corso della trasmissione sai che a me piace concentrarmi sui numeri e sui dati, vediamo quali possono essere dei fatti accaduti in questi giorni in America che possono confermare questa lettura gattopardesca che tutto sommato tra democratici e repubblicani non ci sarebbe poi questo stravolgimento né di politica interna né estera. Sì, e di fatti andremo a parlare anche di questo e daremo alcuni dati sulla situazione italiana giusto per inquadrare il tema. Matteo, a te che riflessioni sono venute, che ti vengono su queste ultime settimane? C'è qualcosa che porresti in evidenza in particolare? Beh, io più che di colonia parlerei di provincia, nel senso che la colonia tutto sommato è anche distante dalla madrepatria, ha un certo grado, non dico di autonomia, però ha comunque parecchi chilometri che sono spesso fisici, ma non solo, tra il punto, diciamo, focale del potere e quella che è appunto una colonia. Noi siamo invece più che altro una provincia, cioè siamo parte integrante dell'impero americano, purtroppo, e lo si vede anche dall'atteggiamento che hanno i nostri governanti, i giornalisti, coloro che bazzicano nel mondo dello spettacolo, perché non riescono neanche a immaginarsi fuori da questo schema. Riguardo invece alle elezioni americane, io credo che abbiano certificato una spaccatura terribile all'interno della società americana. Parlevamo prima, insomma, della possibilità di una guerra civile negli Stati Uniti, gli ultimi sondaggi certificano come almeno il 30% degli americani lo ritenga una probabilità, una possibilità, insomma, qualcosa che potrebbe prima o poi avvenire. Quindi io credo, ecco, appunto, che siamo di fronte all'ennesima prova di come gli Stati Uniti oggi vedano una faia antropologica, culturale e politica che io credo che difficilmente verrà sanata. Ecco, quindi soprattutto quando vedremo i risultati finali, secondo me ci saranno un po' di terremoti dentro gli Stati Uniti stessi. Dentro gli Stati Uniti intanto. Gilberto concordi con questa analisi. È un paese a rischio, guerra civile. Qui viene detto da più analisti qui al vaso di Pandora e immagino anche un po' in generale nell'informazione indipendente. Il rischio c'è, non lo diciamo solo noi, lo dicono tanti analisti, anche americani, ma non solo, sociologi. È una società profondamente divisa, polarizzata forse addirittura più che divisa, in cui il livello di scontro si è alzato progressivamente negli anni, anche spinto dalle classi dirigenti americani e dall'informazione americana, perché è giusto, noi da italiani ci concentriamo su casa nostra e critichiamo sempre sia l'informazione, quella predominante in Italia, ma anche la classe dirigente, ma insomma non è che in America stiano messi tanto meglio da tutti e due i punti di vista. È vero che è un paese che continua a crescere molto più di noi, però come raccontiamo spesso qui al vaso di Pandora, è ovvio che la crescita è una precondizione per migliorare le condizioni di vita, però poi quella crescita bisogna vedere come viene distribuita, nelle tasche di chi finisce e non è che l'America sia un esempio di crescita egualitaria, anzi tutt'altro. Gilberto, oltretutto cosa aspettarsi per il dopo voto? Hanno già votato alcune decine di milioni di americani e parlo dei giorni precedenti a questo 5 di novembre, però il sistema proprio di voto, quindi con i voti postali, voti elettronici eccetera, non si presta a dopo finita l'elezione a una rivendicazione proprio da parte degli schieramenti della popolazione, di quella che si identifica in un partito piuttosto che in un altro, quando se fai parte della fazione che ha perso le elezioni, non si presta quindi questo strumento elettorale a proprio polarizzare o a mettere contro le due parti? In parte sì, secondo me non è un problema di strumento, mi spiego meglio, è ovvio che per esempio la digitalizzazione, in questo caso delle elezioni, ma può valere anche per altri aspetti della nostra vita, può portare a una maggiore facilità di manipolazione del risultato, è fuori di dubbio. È altrettanto vero che storicamente in America, ma un po' in tutto il mondo ci sono stati casi di clamorosi brogli elettorali scoperti sul momento ex post, a distanza di anni, fatti col cartaceo, le elezioni in parte o in meno si è sempre cercato di indirizzarle anche con metodi fraudolenti. Il problema qua è l'istituzione, o meglio la mancanza di fiducia che rivestono oggi molte istituzioni, non solo in Italia, ma anche in America. Quindi è ovvio che il voto elettronico può portare a una maggiore facilità di brogli, ma anche in assenza di voto elettronico i brogli ci potrebbero stare comunque come in passato ci sono già stati. Il problema è che credibilità hanno le istituzioni che dovrebbero sovrintendere al corretto svolgimento, in questo caso delle elezioni, di tutto il funzionamento in generale della macchina pubblica e dell'apparato burocratico. Secondo me il problema maggiore è quello, oltre alla polarizzazione forte della società americana di cui abbiamo parlato prima. Che cosa può succedere con queste elezioni? Io volevo dire un paio di cose che secondo me sono indicative del fatto che qualcosa può cambiare per gli americani e per il resto del mondo, ma non tantissimo. Prendiamo il più grande investitore ancora in vita, Warren Buffett. Sappiamo che ha creato, quantomeno chi segue le informazioni di economia e finanza a una liquidità in attesa dell'esito delle elezioni superiore ai 325 miliardi di dollari. Sta aspettando l'esito delle elezioni per capire come investire questa liquidità. Perché? Perché le elezioni sposteranno un po' le gerarchie finanziarie, ci sarà una fase di assestamento che però farà passare il maggior peso di alcune elite finanziarie magari più vicine ai democratici a quelle più vicine ai repubblicani, ma sostanzialmente non è uno stravolgimento di politica né interna né estera. È una piccola scommessa che gli investitori grossi come Buffett fanno per aggiustare leggermente il tiro. Non solo, andiamo a vedere un'altra cosa importante per esempio per l'America. Se dovesse vincere Trump, verosimilmente dalle voci sembrerebbe che dovrebbe nominare segretario del Tesoro il suo amico John Paulson. Per chi non lo sa, Paulson è il proprietario, il titolare di un fondo di investimento di quelli molto aggressivi che ha guadagnato una valanga di soldi scommettendo sui muti subprime, quella che ha causato la crisi del 2008 per capirci. Il futuro Ministro del Tesoro nominato da Trump dovrebbe essere uno, potrebbe essere uno, che ha guadagnato centinaia di miliardi di dollari scommettendo contro i cittadini americani. Nel caso dovesse vincere la Harris, il più accreditato come nome di segretario del Tesoro è quello di Jamie Dimon, che è il plenipotenziario per chi non sapesse di JP Morgan o delle famose Big Three, Black Rock, Vanguard, State Street. Anche lui che ha guadagnato con l'amorosamente con la crisi dei mutui subprime contro gli americani. Alla luce di questo voi mi dovete spiegare qual è la differenza tra Trump e Harris se i due probabili candidati, papabili, a segretario del Tesoro sono due persone sostanzialmente intercambiabili e sovrapponibili per gli interessi che rappresentano e per la loro storia, tenendo conto che il settore finanziario sotto Biden è salito del 24%, dal giorno delle elezioni, anzi scusatemi, dalle elezioni del 2016 a quelle del 2020 il settore finanziario americano è cresciuto del 24%, dal 2020 a oggi del 75%. Io vi ricordo che Obama venne eletto a ridosso subito dopo la grande crisi dei subprime, promettendo che avrebbe fortemente regolamentato il settore finanziario dei subprime americani, in realtà ha fatto l'esatto opposto. Questo per dire, io continuo a sostenere, che non c'è poi questa grande differenza. Magari rispondono a elite finanziarie non completamente sovrapponibili, ma dubbio che corrispondano agli interessi del popolo americano, figuriamoci a quello europeo o italiano. Sei d'accordo Matteo? Non ci saranno grandi differenze da questo punto di vista qua, tra una vittoria di uno o dell'altro? Ma io mi pongo un po' nel mezzo, cioè secondo me i due estremi in questo caso sono sbagliati, sia di coloro che dicono che appunto non cambierà niente, sia di coloro che invece sperano che con l'arrivo di Trump scenda dal cielo una sorta di nuovo San Michele Arcangelo con una spada di fuoco, come direbbe Mario Brega, pronto a far fuori i cattivi e ristabilire l'ordine e la pace. Io credo che entrambe le posizioni siano sbagliate, come dicevano gli antichi in medio stat virtus, quindi cerchiamo un punto d'incontro. Il punto d'incontro è che se si parla di finanza è evidente che la supremazia, ad esempio del dollaro, non sarà mai messa in discussione né dall'uno né dall'altro, per esempio c'è il fatto che gli Stati Uniti sono un impero, devono rimanere un impero, non possono non rimanere un impero anche perché qualora smettessero di pensarsi e agire in questa maniera, crollerebbero. Questo ce lo insegna la storia, cioè nel momento in cui gli imperi smettono di immaginarsi come tali e quindi anche di agire come tali, a quel punto nel vuoto entra qualcun altro, quel qualcun altro si chiama Repubblica Popolare Cinese, che è il primo nemico di Washington, noi lo dobbiamo mai dimenticare. Però attenzione, ci sono comunque delle differenze in ambito ad esempio europeo, nel senso che quando senti che la von der Leyen ha messo su una sorta di task force anti-Trump, è evidente che qualora vincesse Trump, un ritorno dei dazi a livelli alti come gli vorrebbe il Taicon andrebbe a influire per forza di cose sull'economia europea, che già di per sé arranca, che noi siamo il buco nero della crescita economica mondiale, abbiamo una locomotiva tedesca che la locomotiva non lo è più da tempo, noi stessi arranchiamo perché non possiamo mettere in discussione vincoli di bilancio, ne abbiamo parlato tante volte, e qualora ovviamente da Washington arrivassero anche dei dazi pesanti sulle esportazioni europee, questo evidentemente avrebbe delle ripercussioni. Per non parlare poi di quello che accade in Ucraina, cioè Trump ha promesso al suo elettorato che qualora ritornasse alla Casa Bianca, nel giro di poco tempo chiuderebbe la partita con Kiev, pagliando i fondi, tagliando l'invio degli armi e portando le due parti ad un tavolo negoziale, ora sarà vero, sarà falso, questo poi lo vedremo qualora vincesse Trump, però è evidente che Trump rappresenti quella parte degli Stati Uniti stufa di quel tipo di guerra, di quel fronte lì, mentre invece se parliamo ovviamente di Medio Oriente, beh a quel punto forse la situazione è un pochino più diversa, perché anzi i repubblicani sono i più grandi sostenitori di Israele in questo momento, Trump l'ha detto più volte, però ecco se ci focalizziamo su casa nostra, cioè su questo manicomio a 12 stelle chiamato Unione Europea, evidente che qualora Trump tagliasse i fondi a Kiev, tutto ricadrebbe sulle spalle di questo che non è un attore geopolitico, cioè non è l'Unione Europea, al netto di quello che ci viene a raccontare Mario Draghi e questo ripeto avrebbe per forza di cose un effetto su quella che è la nostra vita di tutti i giorni, però ecco il discorso è che non dobbiamo dimenticare che comunque gli Stati Uniti rimangono un impero, quindi ad esempio come dicevo prima riguardo al nemico numero uno di Washington, ovvero Pechino, allora a quel punto abbiamo un teatro che invece rimarrà caldissimo, anzi probabilmente diventerà rovento, ovvero quello di Taiwan nell'Indo-Pacifico e lì le cose potrebbero davvero sfuggire di mano da un momento all'altro, perché sia i Dem sia i repubblicani non vogliono assolutamente lasciare che Pechino si riaffacci su quello che teoricamente insomma a quel punto mettendo le mani su quel tappo chiamato Taiwan sarebbe veramente un duro colpo alla talassocrazia americana. Quindi per arrivare diciamo a una conclusione cambierà tutto o non cambierà niente? In realtà qualcosa cambierà a seconda di chi vincerà queste elezioni. La domanda è noi che cosa vogliamo fare? Certo se la risposta è sperare che l'arrivo del nostro Beniamino possa migliorare la situazione, ma la domanda di per sé è già sbagliata. Ecco, dovremmo iniziare a prendere in mano il nostro destino, ma qui ovviamente è un discorso ben più ampio. Sì, infatti Gilberto adesso proprio veniamo al tema Italia, perché noi siamo abituati in questi anni nei nostri appuntamenti del martedì a parlare essenzialmente di economia, di politica e soprattutto di economia italiana e dell'Unione Europea. Ecco, quindi cosa cambierà per l'Italia da queste elezioni? Guarda, proprio per collegarmi alle elezioni americane, mi piace anche qua dare un dato che ci collega direttamente all'America, per far capire cosa potrebbe cambiare o non cambiare dal punto di vista dell'Italia. Tenete conto che gli italiani, sappiamo che l'Italia è uno dei paesi con il più alto livello di risparmio privato, poi abbiamo sempre detto che c'è un problema in distribuzione, ma insomma abbiamo un risparmio privato tra i più alti al mondo. Tenete conto che ai primi dieci gestori di risparmi che agiscono in Italia, gli italiani affidano ogni anno più di 2200 miliardi, cioè il PIL dell'Italia, anzi più del PIL italiano, per capirci. Ma quali sono questi primi dieci grandi gestori di fondi di risparmio a cui si rivolgono gli italiani? Il primo, guarda caso, è BlackRock, che di quei 2200 miliardi ne gestisce 473, poi ci sta Vanguard con 276 miliardi, ci stanno poi nei primi dieci JP Morgan con 236, Union Investment con 207 e Fidelity con 204, tutti e tre partecipati ovviamente in maggioranza da BlackRock e Vanguard. Il solo gruppo italiano è intesa, per capirci, in cui comunque è presente BlackRock. Questo solo per ricordare questo ruolo, come diceva Matteo, forse di provincia più che di colonia, noi d'altronde abbiamo un esercito straniero sul nostro territorio, quindi il discorso è sempre quello che dovremmo ricordare l'armistizio di Cassibili, i trattati di pace di Parigi, perché poi il vulnus nasce là, è vero abbiamo perso la seconda guerra mondiale, è vero abbiamo firmati armistizi, rese incondizionate, trattati di pace punitivi, è anche vero che sono passati più di 80 anni e comunque nella storia qualsiasi trattato può essere rimesso in discussione, anche perché durante il corso dell'evolversi della storia le cose cambiano. Oggi gli Stati Uniti, come ha ricordato Matteo, hanno altre priorità che cambiano in parte anche tra repubblicani e democratici, ma insomma noi abbiamo ricordato qui al vaso di Pandora come proprio perché hanno troppi fronti e troppo importanti per loro aperti, gli Stati Uniti si stiano progressivamente disimpegnando dal Mediterraneo, che sarebbe un'occasione d'oro per l'Italia che invece lasciamo sfruttare alla Turchia. Stessa cosa lo abbiamo detto per i BRICS, la Turchia ha chiesto di entrare eppure sta nella Nato o gioca su più tavoli, come l'India che dei BRICS è uno dei paesi più importanti, ma ha ottimi rapporti commerciali e politici con gli Stati Uniti. Quindi cosa cambia per l'Italia? È vero, come ha ricordato Matteo, che sicuramente almeno a parole Trump ha detto di voler chiudere la partita di Kiev, cosa che per noi in teoria sarebbe positiva, però se da un lato quello è positivo poi ci sarebbe l'aumento dei tazzi sulle esportazioni europee. L'Italia resta uno dei maggiori manifatturiari d'Europa e paesi esportatori, quindi se da un lato guadagni magari la fine delle ostilità in Ucraina, dall'altro ci perdi. La verità, come accennava tra le righe, neanche troppo Matteo, è che l'Italia se deve risorgere e si deve salvare, si deve salvare da sola. Sicuramente non ci salveranno i democratici americani, anzi, ma non ci salverà neanche Trump, come ovviamente non ci salverà Putin o non ci salveranno i BRICS, per essere chiari, o ci salviamo da soli o non ci salva nessuno, anche perché la situazione italiana è quella di obbedire agli ordini americani, a prescindere dai governi centrosinistra, centrodestra e tecnici. Io ricordo pure qua un dato, è stato dato un aumento delle pensioni minime di 3 euro. Sì. Ecco, cercherò di dire cose non passibili di denuncia su questo aumento, che vabbè, non lo posso commentare, però nel frattempo… No, no, commenta, dai, di qualcosa. Beh, io ti ricordo solo che la spesa militare tra quest'anno e il prossimo aumenterà, anzi, arriverà a 32 miliardi di euro, che è un aumento del 60% rispetto al 2016 e del 12% rispetto a quest'anno. Cosa che il lineo di massimo non mi vede neanche contrario, perché se dici io devo fare la politica nel Mediterraneo che sta facendo la Turchia, mi devo proteggere perché voglio uscire dalla Nato, secondo me non solo sarebbe giusto, ma doveroso aumentare la spesa per la difesa. La verità è che noi stiamo aumentando la spesa della difesa per combattere guerre che a noi non ci riguardano e anzi ci danneggiano. Tutto questo mentre si dice che ai pensionati più di 3 euro l'aumento non glieli puoi dare, i soldi per i medici, per il sistema sanitario non ci stanno, per l'istruzione non ci stanno, per il distesso idrogeologico figura di anzi che siamo matti e quindi io sottolineo questi numeri di una manovra quasi in stile montiano, perché ripeto la spesa pubblica rispetto allo scorso anno viene tagliata della metà, tornano da quest'anno gli avanzi primari o dal prossimo ancora di più, le spese per la difesa non per difendere l'Italia e per riprenderci il Mediterraneo, almeno nel nostro ruolo, ma per combattere guerre altrui, per dare armi all'Ucraina, per dare armi a Israele, quindi la situazione dell'Italia è questa, tenendo conto che pochi giorni fa è stata la giornata mondiale del risparmio. Noi abbiamo detto che l'Italia è uno dei paesi più ricchi al mondo da un punto di vista di risparmio privato, ma perché ancora campiamo con i risparmi dei nostri genitori e dei nostri nonni, perché la verità è che nel 2023 si è registrato il più basso tasso di risparmio rispetto al reddito della nostra storia, almeno da quando esiste la serie storica del tasso di risparmio sul reddito disponibile, che è stato dello 0,3%. Negli infamissimi anni, per come ce li raccontano quelli dell'Italietta della Ridetta, anni 60, 70 e 80, il tasso di risparmio era agevolmente sopra il 20%, oggi stiamo sotto allo 0,3%. Questa, per dare qualche numero alla situazione italiana, che si sta continuando a deindustrializzare sempre più velocemente, aumenta il peso del turismo, ovviamente straniero perché gli italiani hanno sempre meno soldi per fare le vacanze e quindi tu ti stai terzo mondizzando. Se non vi piace questo termine troviamone di altri, ma l'Italia… Sempre quello è il punto insomma. È su un percorso di sottosviluppo evidente, conclamato, mandiamo i nostri giovani, i migliori, quantomeno come qualifiche, con un calcio nel sedere all'estero a lavorare, abbiamo un tasso di disoccupazione giovanile che si è ridotto ma resta il più alto di tutta Europa, eppure ci continuano a dire che mancano i lavoratori, mentre qua da noi mancano le tutele del lavoro e i salari dignitosi. Senti Matteo, mi sembra anche, tra l'altro, ritornando, ma poi fra poco parleremo di altri dati economici dell'Italia perché ci saranno pure le elezioni, ma la situazione è quella che ha già cominciato a accennare, almeno per questa puntata, e come denuncia già da mesi e da anni qui al vaso di Pandora, Gilberto, puntualmente ogni martedì. La situazione è aggravata anche dal sistema informatico barra propagandistico che c'è qui in Italia, che quindi crea la percezione della realtà nelle persone, la incanala, perché sembra che qui preferiscano le guerre ai dazi, e vabbè purtroppo c'è la guerra, ma i dazi, mamma mia, quello sì che è un grosso problema, un dramma, no? Cosa ne pensi? Beh, gli italiani stanno già combattendo una guerra contro se stessi, e quindi la stanno sia vincendo che perdendo, e quindi la stanno perdendo, perché nel momento in cui ti fai del male, nel momento in cui, come diceva Gilberto, permetti che vengano implementate delle politiche che sono letteralmente un suicidio. Un suicidio, se vogliamo, oltre che economico direi proprio mentale, perché è evidente che nel momento in cui tu abbracci l'idea per cui una deindustrializzazione sia tutto sommato una cosa positiva, io vedevo qualche giorno fa un video del governatore, del presidente, scusate, della Toscana, il quale godeva nel vedere cadere le ciminiere di Piombino, dicendo meno industria, più green, no? Ecco, veramente siamo in mano a una classe politica che vede tutto sommato di buon occhio l'idea che questo paese diventi un po' come la Grecia, quindi un paese destinato alla villeggiatura, no? Per permettere poi magari qualcuno del nord Europa a venire qui a godersi le spiagge che magari non sono neanche in mano più italiane, no? Magari con una bella volkessen si possono aprire le porte alle grandi multinazionali e a rendere anche meno italiane le nostre spiagge, e niente più di questo, sì, magari un posto dove si mangia bene, dove si sta bene al sole, ma dove le industrie sono state spazzate via volutamente, ma con l'avallo degli italiani stessi. Per questo è importante ricordare che al di là dei trattati che ci sono, e molti dei quali andrebbero desecretati anche per vederne, insomma, la gravità, perché veramente ne sappiamo poco, ma possiamo intuire cosa vi sia scritto in quei trattati, al di là di questo c'è un avallo dell'intera classe politica italiana e di buona parte anche dell'opinione pubblica italiana, non so se in questo momento maggioritaria, ma sicuramente quella parte d'Italia che vede sempre come fumo negli occhi l'idea che l'Italia stessa si rialzi. Questo è un problema mentale e culturale di cui paghiamo ancora oggi, ne paghiamo gli effetti su tutti i fronti. Per quanto riguarda, dicevo prima, le elezioni americane, è vero che se le analizziamo dal punto di vista finanziario o comunque di quello che è l'impero americano, certe cose non cambieranno mai, anzi peggioreranno. Perché? Perché Washington in questo momento deve combattere per mantenere il suo predominio, che è messo in discussione per la prima volta nella sua storia, perlomeno nella storia dell'ultimo secolo. Però attenzione perché comunque se l'Italia, e questo è un grande sì, riuscisse a cavalcare quei grandi cambiamenti a cui andremo in conto in questi anni, potremmo riuscire a ritagliarci un margine di manovra che in questo momento sicuramente è piccolo, ma c'è. Prima Gilberto parlava del disimpegno americano dal Mediterraneo, ma non solo. In generale i BRICS, che non sono l'antinato, chi li considera tali, sbaglia. I BRICS non sono un'alleanza strategica né militare, però è una parte di mondo che sta iniziando a immaginare il mondo stesso fuori dall'ombra dell'ala americana. È già tanto. È già tanto. È già tanto. Non vedremo probabilmente la nascita di un'unica moneta dei BRICS, come è stato in qualche modo annunciato nei giorni scorsi. Ma forse è anche meglio. E forse è anche meglio, ma in generale l'idea che si commerci con le monete dei BRICS e di tutti questi paesi che si stanno affacciando in questo mondo che immagina se stesso multipolare, è comunque veramente una rivoluzione, se vogliamo. Prima Gilberto parlava della Turchia. La Turchia fa parte della NATO, ma la Turchia ha chiesto formalmente l'entrata nei BRICS. Quindi si può fare. Se uno vuole, si può fare. Certo, potrebbero arrivare delle minacce. L'Italia ne sa qualcosa. Vi ricordate nel 2008, quando ci fu un fumo costretti a stracciare il trattato di amicizia con la Libia? Poi tre anni dopo, insomma, vennero a utilizzare l'Italia come porta aerei per andare a distruggere i nostri interessi in Libia. Però vedete, c'è sempre una differenza. Quella differenza la fa la volontà politica. Se dichiari te stesso come patriota, se ti autodefinisci patriota, devi mettere in conto che le cose potrebbero andare male e potresti dover fare delle scelte difficili. Questo governo non rientra nel patriottismo. Questo, secondo me, va in qualche modo sottolineato. Però io credo che da qui in avanti si apriranno tante finestre temporali e fisiche che potremmo e dovremmo sfruttare. Poi che verranno o non verranno a sfruttare, questo è un altro paio di maniche, ovviamente. E ci riguarda anche a noi da questo punto di vista, se vogliamo. E chiudo. Cioè, se vogliamo essere pronti a sfruttare queste finestre di opportunità, vuol dire che dovremmo essere pronti anche a poter contare su una classe politica diversa. ed è lì che, secondo me, la grande sfida... Questa ha dato la prova che ha dato. Esatto. E che continuerà a dare, perché la forma mentis che va cambiata... Io per questo parlo non di colonia, ma di provincia. Perché la colonia può essere ricalcitrante. La colonia, l'abbiamo visto con l'impero inglese, no? Che piano piano è andato a dissolversi proprio per questo. Ecco, la colonia può alzare la testa, può innervosirsi. La provincia no. Perché la provincia si sente parte del meccanismo imperiale. La cosa brutta è che noi siamo una provincia trattata come una colonia. Quindi, tutto sommato, non ne vediamo nemmeno gli aspetti positivi, tra virgolette. Ecco, dovremmo alzare un pochino la testa. Sì, in una fase storica che si è creata da poco, che crea opportunità, delle potenziali opportunità, come non avvenivano sicuramente da molti e molti decenni. Gilberto, allora abbiamo parlato di queste elezioni e è chiaro da questa analisi che non ci sarà nessuno che ci salva, non ci sono in questo senso da creare aspettative di nessun tipo, ma al di là di tutto questo, oltre a tutto questo, c'è comunque allo stato attuale una realtà di paese. Hai accennato poco fa al fattore del risparmio. L'Italia è uno dei principali paesi per risparmio privato, che però è stato eroso pesantemente negli ultimi decenni. Ci sono altri dati, che al di là delle aspettative, delle elezioni americane, di chi andrà meglio questo o l'altro, un dato lo rivela anche solo le 24 ore, lo cito e poi lo sviluppiamo assieme, più del 63% dei giovani vive ancora in casa dei genitori. Tra l'altro rientrano tra i giovani le persone fino a 34 anni. Un secolo fa e anche meno, 34 anni, eri un adulto in piena regola. Assolutamente. Ovviamente la lettura che spesso viene data è quella che noi abbiamo già sentito anche da altri personaggi, in passato quella dei bamboccioni, i giovani italiani non vogliono andare via di casa. La verità è che la maggior parte, non che non esista questa categoria, ma la verità è che la maggior parte di giovani italiani, o comunque sia con l'età inferiore ai 30 anni, non è in grado di andare via di casa. Non è in grado di andare via di casa perché il lavoro, quando c'è, è precario. E qua diamo qualche dato. Noi abbiamo detto prima che l'Italia ha uno dei tassi più alti di disoccupazione giovanile, quasi del 19%. Ovviamente non prendiamo di giovani che studiano, prendiamo di giovani che hanno studiato e sono in cerca di lavoro, ma abbiamo anche uno dei più alti tassi di precarità con una quota spaventosa di contratto, di contratti per chi ha meno di 30 anni, inferiore ai 30 giorni. Ma dove te ne vai di casa con un contratto che viene rinnovato di 30 giorni in 30 giorni? Tenete conto che i giovani che vivono da soli, cioè quel 37% che è già andato via da casa dei genitori, negli ultimi 10 anni ha dovuto tagliare dell'8% i consumi, perché non ce la fanno. Un taglio dell'8% è un taglio molto consistente, di cui il 6,4% solo negli ultimi due anni. Noi abbiamo 1,3 milioni di giovani che cercano lavoro, 2,8 milioni che sono andati all'estero per lavorare. Tra l'altro tutti gli studi serici dicono che in realtà sono almeno il doppio i giovani che sono espatriati. Quindi non sono 2,8 milioni, ma sono almeno 5,6 milioni. Questi sono i numeri un po' che riguardano i nostri giovani. E poi c'è il problema dell'industria, che non ce la fa stare al passo, che soprattutto ha dei costi, per esempio, energetici clamorosi. E qua ci riagganciamo a quello che dicevi prima, Carlo, che diceva anche Matteo, la transizione verde, che bello che non ci sono più le ciminiere. Ho capito, ma un paese serio, sviluppato, senza industria, non vive, non esiste, è un paese sottosviluppato. Ma perché noi abbiamo, dici certo, la transizione verde, ma quella è una politica suicida dell'Unione Europea che coinvolge anche altri paesi. Certo, le sanzioni alla Russia, vero, verissimo, queste sono tutte con cause dell'aumento dei prezzi, come le privatizzazioni e le liberalizzazioni, che però in teoria riguardano anche altri paesi dell'Unione Europea. Perché quindi in Italia ci sono i prezzi più alti di tutti? Beh, innanzitutto perché noi abbiamo l'unica classe dirigente che le suicida regole europee, le rispetta alla lettera sempre e comunque. Mentre ci sono altri paesi, tanto per non fare nomi, Francia e Germania, che se lo ritengono opportuno, le violano, le aggirano. Volete un esempio? Noi abbiamo abolito il mercato tutelato dell'energia, Francia e Germania no. Noi stiamo privatizzando ulteriormente, cedendo quote ai privati, anche dalle compagnie energetiche. Francia e Germania le hanno privatizzate, nazionalizzate o finire di nazionalizzare, se erano già partecipate, e le hanno anche levate dalla borsa. A noi la transizione verde la seguiamo alla lettera, la Germania usa ancora il carbone perché è da energia che inquina ma a basso costo, e la Francia il nucleare. Ecco che tu così ti spieghi perché l'Italia ha l'energia più cara d'Europa, eppure le regole dovrebbero essere le stesse per tutti, il mercato è lo stesso per tutti, quindi i prezzi non male dovrebbero assomigliarsi. Chiudo citando il Presidente, il capo della KFB tedesca, che è la casta depositi e prestiti tedesca, Vintels, che cosa ha detto? Per la transizione verde servono 3.000-5.000 miliardi di Euro l'anno di investimenti, adesso stiamo a 1.200-1.300 a livello mondiale, questo per confermare, se qualcuno ancora avesse dei dubbi, che dietro le parole d'ordine imperanti degli ultimi anni, cambiamento climatico, transizione verde, sono semplicemente delle parole d'ordine che nascondono un giro di affari tra i più grandi degli ultimi 20, 30, 4 anni, un giro di affari gigantesco, ripeto 3.000-5.000 miliardi di Euro di investimenti l'anno, tra l'altro parole d'ordine e giro di affari che con la tutela dell'ambiente non hanno minimamente nulla a che vedere. Io veramente, Carlo, in maniera più semplice di così, non saprei come dire e come spiegarlo. Ci sono stati toccati da Gilberto, Matteo, tanti punti. Io ti cederai la parola, perché non vorrei magari con una domanda magari in mente qualcosa in particolare da porre, da analizzare. Prego. Beh, io voglio essere ancora più sintetico quando prima diceva Gilberto questo è un enorme giro d'affari che nulla a che fare con l'ambiente. Io direi che non si può essere ambientalisti e allo stesso tempo globalisti. Non lo puoi essere. Perché? Perché per il semplice fatto che se tu veramente vuoi bene all'ambiente non puoi essere a favore di un sistema economico e poi anche politico, commerciale e quant'altro che prevede la libera circolazione di merci, capitali e persone come se non ci fosse un domani. Cioè la cosa ridicola è che tu hai dato vita a un sistema industriale economico che è sicuramente energivoro e sicuramente fa anche male all'ambiente se vogliamo. Pensiamo ad esempio alla quantità di territorio che viene consumato non solo per l'industria alimentare ma anche quella energetica. Per che cosa poi? Per alimentare quella stessa propaganda che invece ti dice che magari il piccolo produttore con il suo piccolo appezzamento di terra si deve levare dalle scatere o ad esempio la piccola media impresa deve morire o la panda di tuo zio deve finire in garage. Magari quella stessa panda che tuo zio è riuscito a tenere in vita per vent'anni invece di premiare il fatto di essere stato odio questo termine resiliente immaginare di aver abbracciato quella forma mentis tipicamente italiana ovvero quella che porta al risparmio quella che porta a tenersi le cose invece di buttarle via tu invece lo vai a punire anzi lo inviti a consumare ulteriormente a spendere ulteriore denaro e quindi anche lì a buttare tonnellate e tonnellate di terre rare e mettere in moto container navi aerei che portano merci di qua e di là ovviamente inquinando quindi è un'ipocrisia incredibile se vogliamo di cui pagano il prezzo però le persone qualsiasi se vogliamo anche le classi meno abbienti della società però ecco il discorso che si faceva prima sugli italiani i giovani italiani che rimangono a casa mentre per quanto riguarda la natalità io credo che lì la situazione sia più culturale che economica anche se ovviamente se vi fossero degli aiuti concreti e importanti alle famiglie la situazione migliorerebbe ma non credo che verrebbe invertita la tendenza perché ripeto è un problema soprattutto culturale quando si parla di mettere al mondo dei figli in questo caso invece io credo che la situazione il problema sia prettamente economico cioè tanti giovani italiani non lasciano casa non perché sono dei bamboccioni come ha detto qualcuno qualche anno fa o sono troppo ciusi come diceva la Fornero no? cioè si fanno troppi problemi a scegliere un lavoro sottopagato rispetto a un altro il problema è che letteralmente non si possono permettere di stare a casa per conto loro non si possono permettere un affitto spesso non si possono permettere di comprare una casa figuriamoci no? figuriamoci mettere su famiglia figuriamoci mettere su famiglia però ecco in quel caso ripeto entra in gioco anche qualcos'altro perché in occidente diciamo che vediamo un certo tipo di narrazione che punta a distruggere la famiglia a considerarla quasi come un peso un peso a cosa? allo sviluppo e in qualche modo al raggiungimento della libertà economica se vogliamo che comunque non la si raggiunge questa è una cosa divertente cioè rimaniamo comunque nel precariato perenne poi arriva magari la signora Fornero o il signor Monti a dirti che la colpa è tua la colpa è tua che stai lì a chiedere un lavoro ben pagato ecco tutto questo secondo me non lo si vuole risolvere per una ragione molto semplice l'Italia è tutta qui da spolpare noi siamo pieni di risparmi privati che non sono solamente il denaro sotto il materasso attenzione sono gli immobili ad esempio sono gli immobili gli italiani sono grandi possessori di immobili che a mio avviso è anche un segno di grande civiltà noi amiamo sempre gettarci del fango addosso invece avere degli immobili e tenere questi immobili ci deriva da una storia molto antica quale noi italiani abbiamo cioè il rispetto verso la nostra proprietà la proprietà privata se vogliamo poter avere una casa e poterla tramandare i propri figli e i propri nipoti questa è una grandissima cosa che ci è stata sempre invidiata soprattutto dai popoli del nord cosiddetti frugali che invece sguazzano nel debito privato questo di cui si parla spesso spesso poco quindi qui c'è un tesoretto su cui mettere le mani ed è ovviamente tu hai bisogno che questo popolo si in qualche modo si indebiti e si venga impoverito e i primi a farle le spese sono ovviamente i giovani italiani che non escono di casa non tanto perché si vogliono godere il ragù della mamma quanto per il fatto che non se lo possono permettere letteralmente non se lo possono permettere ma parlate con un ventenne ma anche con un trentenne chiedetegli ma perché stai ancora dai tuoi e magari sai anche la rottura di scatola di poter portare la propria fidanzatina a casa e dover vedere ci sono mamma e papà ecco questa cosa dopo un po' comincia a pesare il discorso è che semplicemente non se lo possono permettere non hanno abbastanza soldi sia per comprare casa figuriamoci ma a volte anche per pagare un affitto e gli affitti poi peraltro si sono alzati in maniera importante come vediamo anche in questi ultimi giorni ci sono degli esempi clamorosi che stanno emergendo nelle città per esempio prego scusami Matteo no no ma è evidente ripeto è un tentativo in parte riuscito di erodere quella che è la nostra ricchezza come italiani risparmio privato immobili e anche se vogliamo tutta una serie di caratteristiche della nostra popolazione che devono essere gettate sul mercato io qualche giorno fa mi trovavo a Cerreto Sannita che è una cittadina di fondazione nel cuore del Sannio appunto e parlando con un artigiano locale lui mi ha detto una cosa e mi è rimasta molto impressa mi ha detto lui lavora la ceramica e fa delle cose meravigliose e mi ha detto vede io lo faccio per passione finché ci sarà questa passione la passione anche che ti porta ad aver paura ogni volta che tiri fuori dal forno la creazione per dire ma sarà andata bene o sarà andata male nonostante il fatto che io abbia 60 70 anni ho ancora questo timore perché perché è legato alla mia passione nel momento in cui passerà via questa passione e andrà via questo lavoro finirà perché le cinesate che ci stanno travolgendo per carità saranno anche 1000-2000 vasi ma non portano quella passione che abbiamo noi ecco anche in questo c'è la riscoperta del nostro modo di essere italiani non c'entra niente l'essere ciusi non c'entra niente l'essere bamboccioni è che semplicemente è quella guerra contro noi stessi che noi stiamo combattendo come italiani su questo poi il vincolo esterno cammina come su un tappeto rosso è molto più facile sì sì quello anzi viene considerato proprio un punto di riferimento un ancora quasi di sicurezza per paradosso estremo a proposito di transizione Gilberto ed è un ultimo punto che vorrei trattare oggi ma mi sembra molto interessante c'è l'obiettivo con l'obiettivo emissioni zero entro il 2030 dopo Parma Firenze e Bologna c'è il via libera dell'Unione Europea ai contratti climatici per Torino Milano Bergamo e Prato questa mi sembra una notizia molto importante che ti chiedo vi chiedo di analizzare di commentare si allaccia un po' a quello che dicevamo prima emissioni zero in una città vuol dire che non devi avere la macchina per muoverti vuol dire che non ci deve essere un settore industriale ed è pieno di città circondate da zone industriali voi lo vedete quando viaggiate in autostrada ed entrate in una città hai l'indicazione per in molte città italiane per la zona industriale di quella città però ovviamente quello inquina quindi è brutto e cattivo però ripeto un conto è voler spingere per un sistema che garantisca un livello industriale uguale e impatti di meno sull'ambiente io credo che su quello nessuno avrebbe nulla incontrato se riusciamo a mantenere un'industria sviluppata una manifattura l'Italia resta la seconda potenza manifatturale d'Europa non so ancora per quanto però al momento ancora lo siamo e riuscendo a impattare meno sull'ambiente tra l'altro come ricordava giustamente Matteo l'impatto sull'ambiente però non è solo quello della cimiera dell'industria ci sta la cementificazione la cementificazione selvaggia e tanti altri fattori che incidono sull'ambiente non è che solo l'industria incide sull'ambiente figuriamoci la panda di nonno se è quella che incide sull'ambiente tra l'altro io continuo a dire vivendo a Roma come Matteo io non è che mi diverto a passare tre ore a Roma imbottigliato nel traffico ma invece voglio vedere a voi a muovervi in una città con i ritmi d'oggi grossa come Roma che ha un sistema metropolitano così a due direttrici il che vuol dire che io devo prendere i mezzi di superficie che fanno lo stesso traffico mio e non passano mai quindi devo uscire quattro ore prima per andare a un appuntamento che non è vicino casa quindi se uno volesse incentivare il minore utilizzo dei mezzi privati dentro il raccordo annulare parlo di Roma fai 10-15 linee metropolitane che si possono fare non si ci sono gli scavi ma puoi andare sotto puoi trasformare le stazioni metropolitane in stazioni museali come fanno in tutte le città europee come fanno a Mosca per esempio esattamente quindi non è vero che siccome Roma sotto è piena di cose non si può fare niente costa di più ma si può fare ma là torniamo al solo discorso da coperta corta quindi le città verdi o all'obiettivo zero emissioni io adesso è un iperbole entro certi limiti il modo migliore per ridurre a zero le emissioni della città è levare i cittadini perché ricordiamoci che noi emettiamo CO2 quando respiriamo quindi zero emissioni vuol dire zero cittadini sì che tra l'altro sarebbe anche l'obiettivo dei dei Maltusiani perché chiaramente meno meno gente c'è voglio dire meno inquinamento meno inquinamento c'è ma qui entreremmo in un altro capitolo Matteo Matteo Brandi hai una riflessione conclusiva su quest'ultimo punto che ho portato quello delle città con i contratti climatici beh sicuramente l'uomo che non emette CO2 è un uomo morto quindi sì è il massimo dell'ecosostenibilità sì i Maltusiani fanno sempre ammazzare dalle risate perché si lamentano dell'eccesso di popolazione ma non pensano minimamente di elevarsi dalle scatole loro cioè sempre qualcun altro che si deve fare mai che vi hanno un buon esempio ma almeno sì coerente fino in fondo invece assolutamente no sono sempre gli altri ad essere in eccesso però vedi Carlo sono gli esempi concreti quelli più efficaci non le parole appunto io dico mostraci che è possibile la via Maltusiana al futuro mostracelo invece assolutamente no però vedi Carlo alla base di questo ambientalismo peloso fumoso e ipotita c'è una profonda misantropia cioè l'uomo viene visto come una sorta di virus no invece di essere visto come colui che dovrebbe curare l'ambiente come forse un giardino quindi con una certa responsabilità se vogliamo perché siamo d'accordo che si debba comunque immaginare un tipo di industria rispettosa per l'ambiente ma d'altronde anche qui in Italia noi avevamo già trovata questa questa formula magica io dico sempre quando guardate i borghi italiani vedete come sono immersi nel paesaggio italiano il paesaggio italiano che è bello perché non perché la natura viene lasciata a sé stante ma perché è curata è questo che rende il paesaggio italiano così bello perché l'opera dell'uomo si sposa con la natura con un perfetto equilibrio che poi si traduce in una bellezza mossafiato ecco quindi noi anche lì dovremmo riscoprire un po' noi stessi invece cosa ci vengono a dire che dobbiamo piazzare pale eoliche e pannelli solari ovunque per produrre un'energia che poi tocca anche vedere quanto sia performante come si dice e poi soprattutto per che cosa venga impiegata e la cosa mi riusciva a ridere qualche giorno fa leggevo un progetto milionario adesso non ricordo di quale una delle tante multinazionali insomma che stava investendo nell'energia green dando vita a questi enormi macchinari in grado di convertire la CO2 in ossigeno e qualcuno mi ha fatto notare che esistono delle cose che funzionano in maniera molto simile chiamate alberi no ecco quindi vedete si è arrivati a un paradosso per cui avendo abbracciato questa che a tutti gli effetti un'ideologia profondamente misantropa e soprattutto classista si arriva a queste cose se vogliamo ridicole ecco cioè è il momento di ritornare ad essere un pochino lucidi e da lì scopriremo che tante di quelle cose che ci vengono spacciate come green non solo non funzionano ma sono anche controproducenti perché rendono le nostre città spesse e volentieri ulteriormente invivibili e già lo sono come diceva giustamente Gilberto non è che noi romani amiamo prendere l'auto per farci nove ore di traffico non è questo ma la città va ripensata in maniera intelligente non tagliando fuori decine di migliaia di persone sì assolutamente sì siamo partiti in questo nostro appuntamento del martedì dalle elezioni americane per fare un'analisi veramente amplissimo spettro ma sono stati portati tante riflessioni e tanti dati molto interessanti a proposito di elezioni americane domani sera ricordo l'ho già detto nell'appuntamento di ieri del lunedì con la politica internazionale domani grande appuntamento dal vivo le seguiremo live l'andamento l'esito l'andamento delle elezioni con assieme a Giacomo Gabellini Umberto Pascale in collegamento da Washington e il nostro direttore Gabriele Sannino quindi appuntamento domani sera alle 19.30 non mancate assolutamente io per stasera in attesa dell'esito delle elezioni ringrazio moltissimo nel nostro appuntamento del martedì Gimberto Trombetta grazie a te Carlo grazie ai nostri ascoltatori e un caro saluto a Matteo ovviamente e grazie un saluto a Matteo Brandi della segreteria nazionale di Pro Italia noi ci vediamo fra due settimane e lì commenteremo varie cose e lì ci sarà sempre molto da commentare grazie anche a Matteo Brandi grazie a te Carlo un saluto a Gilberto e a chi ci ha ascoltato fino a questo momento grazie grazie a tutti voi amici ascoltatori grazie a tutti a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti